Novela estetica, anche voi qui chiaramente per questa manifestazione a Palazzo Keckler che si sta svolgendo con questo fashion show di abbigliamento per gli sposi organizzato da Livia De Vita di Magnolia Venti. Cosa proponete per gli sposi, per il trucco uomo-donna o solo uomo o solo donna? Chiaramente facciamo tutti e due dai famosi trattamenti del viso al trucco, poi abbiamo fatto un menù personalizzato per la sposa e anche per lo sposo e anche per il suo staff. Chiedono anche il dimagrimento le spose prima del matrimonio? Anche la remise in forma, quindi chiaramente dal dimagrimento fino ai 40 giorni.